Dopo la positività di una maestra della scuola primaria di Casalbordino, a sua volta contagiata dal fratello professore del liceo Mattioli di Vasto, 20 bimbi e 14 tra docenti e personale scolastico erano stati messi in quarantena fiduciaria. La sorveglianza per loro è terminata nel migliore dei modi. Nessuno infatti risultato positivo al covid-19, stesso esito anche per le 25 persone entrate in contatto con la maestra. Analogamente accaduto a Lanciano per le 49 persone in quarantena con isolamento domiciliare fiduciario e con sorveglianza attiva a seguito di contatto con il 32enne positivo che era stato ricoverato a Chieti e già dimesso. Buone notizie anche sul fronte delle dimissioni. Dimessi una giovane donna dall'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti e altri due un uomo e una donna da quella di Vasto. Un altro paziente uscito dalla terapia intensiva di Chieti è trasferito in pneumologia. I due pazienti di Vasto risultano clinicamente guariti, hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi e saranno trattenuti in isolamento domiciliare in attesa del tampone di conferma per l'accertamento della negatività. Restano ricoverati malattie infettive altri cinque pazienti a Vasto, 12 a Chieti, 6 in rianimazione al Santissima Annunziata. Tra i 122 nuovi casi positivi al Covid-19, tre si sono registrati a Ortona e Francavilla al Mare, due a Lanciano, Muzzagrogna, Atessa, Tollo, Ripa Teatina, Crecchio e Uno nei comuni di Fossa Cesia, Treglio, Castelfrentano, Santa Maria in Baro, Frisa, Vasto, Montazzoli, Chieti, San Giovanni Teatino, Miglianico, Rocca Montepiano e Guardia Grele.